La sindrome di Dante e Beatrice in amore. Ma chi era veramente Beatrice? Chi era questa donna che ha fatto battere il cuore al sommo poeta? Fin negli anni successivi della morte di Dante, gli esegeti delle sue opere dicevano che questo personaggio si poneva alla domanda se era un personaggio reale oppure immaginato. Ebbene, è un personaggio reale. Dante si è veramente innamorato di Beatrice perché Dante aveva una sindrome del rifiuto. Beatrice, si tratta di Beatrice Portinari, che è nata, pensate, nel 1266 a Firenze, una delle sei figlie di Forco Portinari, che è un ricco banchiere, not esponente della borghesia, diciamo, fiorentina. E Dante fu subito colpito dalla grazia, dalla dolcezza di questa Beatrice, quando lei era veramente una bambina, mentre era a passeggio. E il suo coinvolgimento, diciamo, divenne sempre più prorompente. E da quel momento Beatrice divenne la muse, ispiratrice del poeta. Però Beatrice non si è mai concessa al poeta e ha spinto Beatrice, e tant'è che Beatrice si sposò pure un altro uomo. E Dante, nonostante Beatrice fosse sposata, dedicò a lei i famosi versi. Tanto gentil e tanto onesta pare, la donna mia, quando è d'altrui saluta, con il lingua diventa amando mute, gli occhi non ardiscono di guardare. Quindi l'emozione di Dante nel rivedere Beatrice, non benché sposata, fu forte. Dopo questo incontro folgorante ci furono altri brevi contatti tra i due, nella chiesa di Santa Margherita dei Cerchi e a un banchetto nuziale. Però, diciamo, Dante stesso si sposò con un'altra donna. Però non c'è verso, Beatrice rimase sempre nel suo cuore. Fu quell'amore, tanta matema e posseduta. E questo è un po' la sindrome di Dante e Beatrice. Tutti quelli che si innamorano di personaggi effimeri, che fanno un'altra vita, che non li prendono in considerazione. Diciamo che poi la vita terrena di Beatrice durò poco, perché all'età di 24 anni, solo tre anni dopo il matrimonio, morì. Una sera d'estate all'età di 24 anni. Per Dante la sua scomparsa fu un dolore immenso. Lo sconforto che seguì, diciamo, portò più tardi al suo capolavoro, la Divina Commedia. Dove Beatrice divenne una figura angelica nel paradiso. L'amore per lei fu totalmente sublimato. Ma se voi non siete Dante Lighiere e non volete scrivere la Divina Commedia, quando entrate in queste situazioni e mandate a fanculo, che fate prima, anziché stare a perdere tempo. Seguimi su YouTube, Massimo Tramasco. Seguimi su Instagram, su TikTok. Ciao a tutti.